Aspettavamo di avere difficoltà in attacco, perché è la prima volta che giocavamo dopo sette mesi. Quello che non va bene è assolutamente l'atteggiamento. Abbiamo sbagliato tutti l'approccio alla partita e non siamo riusciti a cambiarlo durante l'arco dei 40 minuti. Perché non abbiamo o avuto le energie, sia fisica che mentale, per cambiare l'inerzia della partita. Ci aspettavamo sicuramente difficoltà in attacco, non ci aspettavamo difficoltà di atteggiamento in difesa. Diciamo che se doveva succedere è meglio che è successo ora, però c'è tanto da lavorare. Sinceramente credevo di essere leggermente avanti, non tanto sulla condizione ma sul piano della concentrazione e dell'aggressività in difesa. Bisogna lavorare su tutto perché la stagione, la data impone di dover lavorare su tutto. È evidente, e lo sapevamo prima, che avrei provato più soluzioni, hanno giocato tutti. Quello che bisogna lavorare innanzitutto è sull'aspetto mentale. Prendiamoci questa lezione, soprattutto sul piano di intensità, perché in allenamento ancora non riusciamo a riprodurre l'intensità che abbiamo trovato oggi. Ora abbiamo altri due allenamenti, prima dell'esordio in Supercoppa, dove sarà un impegno ancora più difficile, ma sicuramente dovremo fare un passo in avanti. Ripeto, è normale avere, mi sarei sorpreso del contrario se fossimo stati fluidi in attacco, ma invece dobbiamo assolutamente non fare uno o due passi meglio in difesa, ma soprattutto sul piano della comunicazione. Ho visto una squadra in silenzio per 40 minuti e questo non va bene perché se vogliamo avere qualche possibilità durante il campionato, se fare un bel campionato non si può prescindere come l'anno scorso a partire dalla difesa. Questi amichevoli servono appunto per questo, per prepararsi al campionato, ma non penso ci sia niente a preoccuparsi perché abbiamo cambiato gran parte della squadra, anche se il nucleo è rimasto lo stesso. Mi sembra che siamo ragazzi abbastanza intelligenti, sicuramente rivedremo l'amichevole, vedremo cosa è andato bene e cosa no e lavoreremo su quello che magari non è andato bene. Bisogna recuperare un attimo le energie perché comunque non faceva una partita ufficiosa, se non ufficiale da sei mesi, quindi un po' l'emozione, un po' magari tanto la voglia di fare perché era nuovo, quindi dovremmo innanzitutto recuperare le energie. Per quanto riguarda Marchion è arrivato un po' dopo, quindi deve rimettersi un attimo in forma, però parla da sé, lui ha un talento, una capacità di gioco, una visione di gioco che lo rendono tra i primi della categoria, se non il primo addirittura. Lo aspettiamo, fretta non abbiamo, l'importante è arrivare pronti per la prima campionata.